I gadget di Mussolini, il tricolore con il fascio littorio e poi tirapugni, coltelli, armi da fuoco. Ecco cosa hanno trovato gli agenti dell'antiterrorismo nel corso delle 25 perquisizioni disposte in molte città italiane, fra cui Milano e Como, agli attivisti di Ultima Legione, sigla nata nel capoluogo Lombardo e diffusa nel resto del paese. Un'organizzazione questa di estrema destra violenta che sostanzialmente intende ricostituire il partito fascista. Infatti i militanti sono indagati per violazione della legge scelba e per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. All'interno del loro sito la precisazione non siamo razzisti, la pagina secondo gli investigatori è solo la faccia pulita del movimento, perché l'incitazione alla violenza e il proselitismo avvenivano in chat come questa, nel mirino ebrei, musulmani e migranti. Messaggi d'odio che dal web potrebbero tradursi in azioni pratiche, come accaduto a Macerata nel 2018, quando Luca Traini ferise i stranieri a colpi di pistola. Su Telegram il biasimo degli indagati, perché il neofascista non era riuscito ad uccidere nessuno.